e complici su questo ci hanno lasciato i cortei finché sono arrivati a bruciare i rom questa è la legge della civiltà poi io mi stupisco quando parlano che l'Italia è un paese civile ma io la civiltà non l'ho mai vista io mi sento rifiutato quando cammino un mezzo alla strada l'italiano ci taglia la strada ci allontana non siamo mostri siamo qui semplicemente per vivere per regolare per stare bene siete voi che rifiutate la nostra integrazione poi siamo stanchi delle chiacchiere dei politici che ci parlano dell'integrazione poi non fanno altro che odiare non fanno altro che incitare all'odio siamo stanchi basta, basta racismo questa è la cultura di racismo è uno stato di racismo grazie invito sempre le persone a mettersi dietro la strusione per favore dietro la strusione ragazzi qua siamo stiamo trasmettendo un messaggio e il messaggio deve passare in modo ordinato comprensibile per fare tutto ciò bisogna stare dietro la strusione cosa permettiamo anche alla gente di leggere di sentire quello che ci abbiamo da dire di sentire le grida che stiamo facendo oggi in questo giorno di manifestazione nazionale allora in questo giorno anche non dimentichiamo i profughi che stanno negli alberghi parcheggiati qual è dei delinquenti dimenticati dove non è tutto il quale è tutto il giue che non è tutto il giue Grazie a tutti.